Alternative non ce ne sono e per gli studenti del liceo classico di Lecco si fa sempre più concreta l'ipotesi di seguire le lezioni per almeno i due prossimi anni scolastici in moduli prefabbricati. L'attuale sede del liceo in via Ghislanzoni necessita di interventi di manutenzione. Ieri in provincia si è tenuto un vertice fra gli enti coi volti per cercare una soluzione. L'ipotesi già ventilata negli scorsi giorni è quella di collocare moduli prefabbricati nel cortile dell'Istituto Bertalchi e Medardo Rosso in via 11 febbraio. Una scelta contro la quale hanno manifestato proprio ieri gli studenti delle scuole coinvolte ma che, come emerso dal corso del vertice di ieri sera a Villa Lotcatelli, alla resa dei conti è l'unica via percorribile. Soldi per costruire scuole nuove non ce ne sono, edifici liberi che possano ospitare gli alunni del classico ci sarebbero in città ma nessuno ha le caratteristiche adatte. Impossibile anche pensare che gli studenti del Manzoni possano rimanere nell'edificio di via Ghislanzoni durante i lavori di messa a norma, turnando ad esempio le classi. L'ipotesi dei prefabbricati resta dunque l'unica soluzione attuabile. I moduli che ricalcano, quali già in uso nel Dord Europa, una volta terminato l'utilizzo da parte degli alunni del Manzoni, potrebbero in futuro essere impiegati anche come compensazione per le esigenze che ogni anno si pongono per le scuole superiori cittadine. Resta da chiarire dove i prefabbricati saranno collocati. Ufficialmente il comune e provincia sono alla ricerca di aree che in città possono ospitarli. Ufficiosamente la soluzione c'è già. Il cortile è l'area verde dell'Istituto Bertacchi. Seguendo quest'ipotesi gli alunni avrebbero già a disposizione locali per i servizi di segreteria e palestre per l'educazione fisica. La scelta però non piace sia agli studenti del Bertacchi sia alla dirigenza della scuola che conta 1.400 alunni, soprattutto per ragioni di sicurezza. Alle istituzioni il compito non certo semplice di trovare una mediazione per venire incontro alle esigenze di tutti.